Ma che cos'è questo sfondo rosa di Brawl Stars Boys and Girls? Ma che carino! Ah zitta, adesso ve lo faccio vedere io! Ma cos'è? No, no, non te ne andai! Melody, mamma mia! È bellissimo! Quanto è carino! È s*** finita! E adesso mi dicono, allora annulliamo, cancelliamo tutto quello che ho detto! È un bel brawler! Un bel brawler! Bellissimo! Lo compriamo, Anna, questo bel brawler? Ma che cos'è? Va bene! Adesso, però, bisogna... Ma costa 6! Costa 25 euro! Vuoi donare a 2 euro a favore di una buona causa? No! Va bene, adesso non è al momento! Poi... Oh mio Dio, Melody time! Melody! Mamma mia! Quando è ora di cantare al karaoke, Melody non mostra alcuna pietà! Grazie al suo look da idol e le sue famigerate corde vocali, questa ragazza ruberebbe la scena a chi un non a me! Come noi! Non a me! Io non mi faccio rubare la scena da Melody, Anna, giusto? Eh, esattamente! Perché tu sei Melo Lion! Tu canti meglio di Melody! Melo Lion! Melo Lion! Melo Lion! Incredibile! Melo Lion! Allora... Lion! Le mie pudri degli appi! È so pudri! E cos'è? Applaudono la tua vittoria! Usa Melody per farle tantissime! Allora, Anna, la potenziamo prima! Potenziamo questa, signore, io Melody! Questa qui è giovane! Allora, metti un potenziamento! No! Due potenziamenti! Niente! Tre potenziamenti! No, no, no! Cos'hai detto? Che Melody è giovane, ma tu sei più fresca! Bel complimento! Bel complimento! È un po' molto vero! È bello come complimento, no, Anna? Sì, è un po' detto, no, è assurdo! Prego, Anna, prego! Se vuoi, ne ho sempre altri! Sempre inbound! Se li puoi tenere, come accettati! Chico, Melody è rosa, ma tu sei più rosa! Wow! Bellissimo! Che bello! Specialmente quando Strecatto entra dentro di te! Che ti, no, Strecatto, è bello! Ti renderò! Allora, Strecatto, quali mi consigli tra le abilità intonatore o barriera del suono? È il primo! Così le tue note ruotano velocemente! Non vedo l'ora di vedere queste note ruotare velocemente, ragazzi! Vediamo come sarà! La seconda abilità, cosa prendiamo, Strecatto? Ma sempre danno! Tu tu hai tonno! Devi spaccare! Con il pesello in bombard! Vai, vai, vai! Terza abilità, cosa prendiamo? Ritmo serrato, versione estesa! Ma ovviamente il primo! Perché puoi andare veloci, puoi correre addosso le persone e calpestarle! Ok, per ultimo prendiamo la vita o la velocità? Che cosa ci piace? E la vita, la vita! La vita, la vita! E la vita è bella! E siamo pronti, sì! Vai, Lion! Distruggi tutti! Siamo pronti! L'abilità... E c'è, Lion, andiamo! L'abilità finale non la possiede questa signorina, purtroppo! No, non ancora! Ma prima o poi ce l'avrà! E tu non ne hai bisogno! Non ne ho bisogno! Vincerò ugualmente, Anna! Mi raccomando, supportami con chi sei tu, Veciodaz! No, però... Non ti puoi seccare ogni volta che dico queste battute belle! Capito? Ma cambia registro! Cambia registro! Ma marca miseria! Che tu scatole! Oh mio Dio! Non hai capito? Stai cantando! Eh, ma vieni con me! Sono Melody! Sto arrivando! Melody! Ma è fortissima! Ma hai capito? Ragazzi, ragazzi! Cosa fa Melody dal panettiere se il panettiere gli dà troppo pane? Gli dice se lo tenga! Se lo tenga invece di Melody! Capito? Melody se lo tenga! Ah, ah, ah! Anna non ride! Anna! Uff! Eh, però! Anna, eh, ma vabbè! E diventa qualcosa di utile, va! Eh, ma sono potente! Attenta! Ho preso il muro! Hai tre scatti! Usali bene! E con l'altra cosa faccio con la verde? Cosa faccio, stre? Le tue nuote, quando ti stanno intorno, girano più velocemente! Ah, ma quelle pestano duro! È rottissima! È rottissima! Concordo! Ma che ce ne manca una sola! È durissimo! Vediamo quanto girano! Eh, ma si sbattono, però! Ma sai! Ma sbattano! No, perché devi rimanere in combattimento per mantenerle! Ah, hai visto, Anna, hai capito? E fanno malissimo! E fanno malessere queste notte! Sono proprio il malessere! Avete visto? È molto buona, eh, raga! Attenta! È fortissima! Vieni, vieni, dura! Non mi stai giocando il dottorso! Vieni, 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 segui! Aia, l'ho preso, sono tuoi! Sono degli stupidi, Anna! Sono degli stupidi! Gli abbiamo contati! Melodioso! Canta il black! Sì! È melodioso! Ma non è che fosse! Sì! Eh, eh! Silenzio! Vacche da latte! Mi sto divertendo, sì! Che ha mugito? Tico! Non è vero! Non è vero! Chi è stato lo rifaccio! È stato sregato! Ma adesso vengo a casa tua e ti mungo, eh, se no se lo fai... Stai attento! Anna, Anna, prepara i secchi! Hai capito? No! Che fai! Che schifo! Come che schifo? Fa la mucca, fa il latte! È buono, no? Facciamo il cioccolato, Anna! È buono! È vero il cioccolato! Vai! No, 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 no! Questa non mi piace! Ti lascio la porta aperta! Chi era questo guai a mugito? Io, io! No, non vengo, non vengo! Vieni, vieni! No, no, sono impegnato con la stalla di stregato, mi dispiace! Sì! Sei sempre ben accetto! C'ho troppo da fare a casa di stregato! Anche la stalla preferisci lui a me! Vieni, Anna, che facciamo i turi adesso! Vai che rubiamo la stalla lì! Oh, ma non c'è per nessuno! C'è stato morto! Vai, vai, Anna! Colpe se... Vai, senza paura! Oh, mio Dio! Senza pietà! Ma sei un cantante! Ti c***o tutti! Senza pietà! Ma Anna è morta addirittura! Senza pietà! Madonna, è violenta questa melodia, Anna. Hai visto quanto pesta? Eh, stai scrivendo che ho detto una cosa brutta. Ma non ho detto tante cose brutte. Su Brun Stars si può dire... Perché è un gioco Brun Stars del Brawler. Oh, sei Brun Stars! Vieni, Anna, vieni, vieni, vieni. Dietro! Dietro c'è qualcuno? Ti trumbero, bambero! Anche a te! Eh, ma cosa vuoi fare? Ma è sbilanciatissimo! È immortale questa Melody! Ne sono lieto! È giù forte! È fortissimo! Veramente è forte! Adesso, però, Anna, bi pazienza, ma devo lasciare lo spazio a un altro gioco. Come me l'hai? Mi trumbo, mi è tibbero! Tanto ho già deciso che invito. Ho già deciso. Sì! Posso avere l'onore di giocare con Melodiosa Codosa? Sono un grande fan! Per favore, cantami una canzone! Uffè, ma che skin abbia! Hai visto che look? Mamma mia! Non è brutta! No, è bella, è bella invece. Non è vero! Bravo, bravo! Bruttissima! Adesso ti faccio vedere. Vabbè, vinciamo questa partita! Stammi appresso che io sono determinante come Melody! Ti seguo, fratello! Va bene, va bene. Vieni con me. Andiamo a sinistra. Andiamo! Qui, ci prendiamo questa. Luota per bene a quelle note! Vai, ti do una mano! È molto potente, Melody, eh. Ma te no, cantami una canzone! Stai zitto, lurido. Vai! Vuole intralzare il nostro gameplay! Eh, non lo farà, non glielo permetteremo. Attento! Attento! C'è un bigone alla buonezza lì dentro! Qua, Feppi! Vai, 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 vai! Vado, vado, vado! Non ce ne va di getto! Vai, 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 vai! Massa via! Attento a questa! A questo, vai! Mamma! Trebiato! Ma che scuro! Anna, hai visto come sono forte? Sei troppo forte! Sei proprio melodioso! Vieni, vieni, Fe! Vai, ti seguo, vai, vai, vai! Tromba, no, quello! Mola mia! Mola mia! Ragazzi, allora, non avete capito? Quando io dico quella parola, vuol dire che faccio il rumore, perché lei è un idol. E allora, perché dici quella parola invece che dirla proprio? Trombetto. Perché sai che non va bene? Trombetto, trombetto. Dico trombetto, allora. Sono strombetteio, come si dice? Quando uno... Di così va bene! Peppere, peppere, peppere! E su suono, no? E su suono. Vedo che ha la tromba in mano, eh. Mi sembra che... O è un microfono o è una tromba. E un microfono o è una tromba? Avrei piacere di giocare ancora con te. Vedo che hai messo pronto, però... Ma vieni, vieni, vieni! Ma vieni, vieni! Ma vieni! Pesce delle scimmie! Eh, inviterò chi non ha fatto casino, ho stregato. È vero! Ma sì, sì! Ho sbagliato, ho sbagliato. Ho invitato Alex, non entrare. Ok. Non rientro. Tu sai che non c'è posto per te. Io so già che non c'è oggi. Aspetta, magari giocherai. In melodia vuole bene a tutti. In melodia vuole bene alle persone scintillanti. Quindi stregato, non Alex. Sì, dai che siamo entrambi rosa! Lo sai, streghe Alex è opaco come le pentole della nonna. Ma è proprio brutto. C'è proprio una patina sopra. È vero. Vieni, vieni, andiamo a destra. Sembra che ce n'è una. Ma ma come sei bello! Non ce n'è, streghe. Siamo privi. Non ti preoccupare! Noi non ne abbiamo bisogno! Questo, questo lo trombiamo! Vabbè, vabbè, lo uccidiamo. Dai, vieni, 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 vieni. Quello sotto vuole affrontarti! Attento, 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 attento. Cos'è, ha messo? Chi l'ha messo quel barile? Ho messo io il barile per scudarmi! Va bene, sei stato bravo. Supporto il tuo gameplay. Vieni qua. Stai morendo però, eh. No, ma non ti preoccupare. Mi rigenero con il tuo amore! Pessimo compagno, pessimo compagno. Melodia, strombetteia, mi piace, eh. È forte. Ma Anna si è presa una pausa al drink, per caso? L'aria su! Anna? E vuoi? Anna? Cosa vuoi? Sto passando tutto sto video a scrivere io! Ma non scrivere! Non scrivo un manoscritto oggi! Ma non c'è bisogno, non sono parole da censurare. Ma noi brawler lo facciamo così, dai! Sì, è nel mezzo del brawler, Anna. Va bene. Si possono dire, tranquilla. Pensa a parlare. Sono tutte parole d'amore! Sì, te l'ho detto, Melodia ha una trombetta, quindi lei strombetteia, insomma, come glielo vuoi dire? E allora le vedete a quella! Ok, strombetteia. Ma che qual hai o no? Strombetteiamolo! Oh, sì, 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 anche a questo glielo strombetteiamo! Sì, sì! Tutto tu! Mamma mia, sono capito, mamma mia, è una violenza questa Melodia! Lo sapete cosa dice Melodia? Quando va dal farmacista e deve comprare i cerotti per i suoi avversari, dice Melodia! E se il farmacista dice, vuole anche la pomata per l'emorroide e Melodia dice, no, no, se lo tenga! Di nuovo la battuta! A me fa ridere! Il ragazzo non ha riso! Non ha riso! Non ha riso! Non ha riso! Ma io ho riso tutte le battute! Io ho riso, io ho riso assai, ma... A chi io ho riso? Ripetami! Reddo prima, Reddo! Ma che cosa sei? Una monnezza! Non è vero, sarà bellissimo! Ho preso la skill per te, fratello! Ma è uguale all'altra! Non sempre! Fatti sì! È un cestino per buttare dentro... È un controllo rusato! È fortissimo! Ma giocheremo insieme! Va bene, abbiamo una cassa a destra e poi andiamo verso sopra. Stammi appresso e mi raccomando, non farti indietro! Non temere! Sì, fratello! Segui le mie indicazioni. Ah, ma io canto davvero! Io ti sento che canti! Sei bravissima a cantare, Lion! Ah, che melodia! Che voce suave! Ho una trebunnezza, c'è, la mamma mia! L'hai svuotata! Ma fa se, ma guarda lì, che delirio! Ma che schiena, la monnezza è lenta! È lì, finissimo! Che monnezza! Ma quando mai deve aspettare? Successi! L'abbiamo preso! Attento a questa, è mone, è mone, è mone! Io sono scappato, eh! Tattica incredibile! È una prevasiva! È evasivo! Vieni, 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 vieni che qua... Cacciamogli addosso! Attento, 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 siamo un po'... Vai, Lion, distrugge! A questo, a questo, a questo, a sinistra! Prima questo ci dobbiamo fare. Vai, Lion, due! Vai, prendiamo! Attento, rigenera i proiettili, i proiettili! Perfetto, lo rigenerate! Adesso, al pera li vediamo, come dei duri sono qua! Wow! Trombaion! Buonissimo! Sì, sì, sì! E non c'è, spuglio lì sopra! E non c'è, invece. Ha detto una bugia! Hai detto una bugia! È forte, ma io di più! Allora, possiamo affermare... Esatto, la munnezza è stata totalmente inutile. Fede, gli puoi dire qualcosa, per favore? Fred, ma che cosa faccio? Ma che cosa? C'è l'uso di aiutare, Lion! Ma nemmeno c'è la... La munnezza, idiota! Scusate! Una munnezza! Una munnezza, un cestino dell'umile! Una munnezza totale! Vai fuori dalla mia munnezza! Non ne vado via! Invitovi! 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 Chi non ha giocato vorrei sapere? Io! 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 Cicco non ha giocato! Sì, sì! Anche tu ami il cocodrillo? Oh mio Dio! Anche io lo amo il cocodrillo! Sì! Mi piace, perché quello non sai mai da dove ti apprende e poi mozzica sotto! E poi, gnam, gnam, non sai mai! Oh sì, Lion! Di a tutti che ieri notte è sette ore di fila di Brawly! Brawly! Che è questa storia adesso? Ma non è vero! Brawl Starsing! Ma capisco cos'erano quei rumori! Brawl Starsing! Stai giocando senza di noi! Brawl, Brawl, Brawl! Brawl Starsing! Oh no, 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 no! Ti difeso col mio corpo subito! Non vorrei mica perdere solo tu, eh! Ma stai scherzato? Noi vinciamo sempre! Ma te lo hai un po' di forza! Guarda che abbiamo rischiato qui, eh! Io col mio corpicino mi metterò sempre davanti! Bravo, grazie! Anna non ci sta incitando neanche un po'! Oh mio Dio! E parla però, brutta balorda! E cavolo! E dai! E tu continua a far così e io parlerò sempre di me! Anna! Io ti farò sempre insieme! Per insultarti! Anna! Guarda che azioni stai facendo! Sono bellissimo! Oh mio Dio! Alex, sgrida un po' Anna, per favore! Anna, non è un po'! Ah, ti ho detto! Sgrida! Fatami sgridare da qualcuno! Alex, sgrida! Mannaggina! Devi parlare con Lion! Mannaggina! Mannaggina! Ma che stai dicendo, managgina! Dai, io non ho fatto! Alex, riprendi Anna come si deve! Anna! No! Devi parlare con Lion! Mannaggia! Eh, managgia più grosso di managgina! Attento, attento! Silenzio, dobbiamo... Oh, anche quello c'ha un pallone enorme! Attento! Stromboniamolo! Stromboniamolo! Scoppiagli il pallone! Non fatti scoppi il pallone addosso! Oh yeah! Strombondà, Dudu! Ma questo l'altro pure! Oh no, ci tira le sue stupi d'aggini, sto idiota! Ma adesso glieli mettiamo tutti quanti nel palo della luce! Ma cosa fa? Thomas, scena, scena, scena! Thomas, scena, ma che bravo! Allora, chi non ha giocato? Chi non ha giocato? Io non ho mai giocato! Nostro Alex è rimasto! Redd ha detto che non ha mai giocato, eh! Io non ho mai giocato! Non ha mai giocato! Mi puoi evitare? È l'immondizia! È vero, è l'immondizia, mi sono ricordato di riscarso! Non è vero, Anna gioca! Hai evitato me? Io non ho mai giocato! Grazie! Alex, dopo, c'è tempo ancora! Scherzo, c'è tempo! Questa melodia ci sta facendo fare una streak di vittorie! Non la fermeremo con la tua partita pessima! Sai tranquillo! No, vinceremo sicuramente! Zitto, Zitto! Anna, concentrati, ok? Ma ovviamente sono sempre concentrata, sempre appiccicata alle tue chiappette! Va bene, le mie chiappette melodiose! Facca ogni cosa con la vostra melodia! Adesso io e Anna... Sento una dura melodia, divina! Che bravo tu! Un corso di poesia! Melodiosi, attento a questi! Attento! Trombine! Mamma mia, li hai distrutti! Mamma mia, non ne hanno capito niente! E noi tromboniamo tutto! Dai! Così andiamo in qui! E poi anche lì c'è pieno di gemme! Vai, 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 piglia! Ma laio falli fuori tutti! Adesso ammazza quello! Quello è morto! È scappato! E invece no! Brava! Oh, attento alla torretta! Quello lì è una torretta, quella roba! Quella munnezza! Io la torretta! Ma io la melodioso! Eh, mamma mia, è merda il tutto! Grazie ragazzi, grazie! Non ti tiene nessuno al mondo! Vieni, Anna, vieni, Anna, che smelodiamo anche quello! Questo stupido idiota! Ma cosa fai? Ma gliela vedere! E' merda il tutto! 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 Troppo forte! E' molto potente questa melodia, comunque! Siamo in una serie di vittorie, Anna, niente male che però... Cioè, guarda qui che stiamo ricostruendo! E' giunto il momento! No, no! E' giunto... No! Un'altra quando? Ma dopo, dopo! Grazie! Poi Stregatto si è qualificato, mi sembra! Grazie! Mi sembra... Non mi mettermi in fila? Sì! Lo sto cacciando! Lo sto cacciando Stregatto! In fila c'è Stregatto, poi Red, mi è sembrato! Anna, non posso mettermi? No! Anch'io voglio mettermi! No, finita la fila, poi c'è Alex, ragazzi! No! Poverino, cosa fai? Non lo fai giocare? Mi sembra brutto! No! No, non è brutto! Lo lasciamo escluso! No, non è brutto! Vabbè, ci pensiamo allora di escluderlo per sempre, ragazzi! Che tanto fa schifo, quindi fa perdere le partite, in fondo! No, Anna? No, perché poi ci porta sfiga, perché ci fa le macumbe! Ah, pure, pure! Attenta che questo... Oh, sono forti! Questi, questo, questo... Io rimango dell'idea che... Oh, bravissimi! Il primo è veramente piselluto, eh, comunque... C'ha dei pugni, niente male in quelli grandi! Ma tu sei più forte, Lion, ricordatelo! Io gli canto una melodia, lo faccio innamorare al primo e lui si scioglie... E poi è scappita lui! No, c'è un tipo! Vai, vai, vedi! Vabbè, vedi! Vabbè, vedi! Grazie delle risorse, le capalulusi! Che gravattino! Sì, venite, Anna, seguime, melodia! Di sto dietro, lì ci sono dei gettononi! Dove? Là, in mezzo alla nebbia, ciao! Non ce ne frega più niente, sei una pazza! Non ce ne frega più nonna! Vieni, Anna, seguime, ammazziamo queste, vieni, vieni, vieni... Guarda quei due caccolini! TAMAMAMIA! 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 TAMAMIA! Ingulendion! Non c'è paragone! Eh, fortissima melodia! Lei e le sue canzoni da idol fuori di testa! Allora, Anna, adesso purtroppo ti devo rimuovere dalla squadra perché c'è ancora chi non ha giocato! È il posto mio! È il posto mio! C'era proprio... Io ero in fila! E l'ha detto prima di un figlio! Mi ricordo, mi ricordo! C'era stregato in fila, ragazzi! Ah, che bello! Grazie! Allora, te lo dico chiaro, chiaro, così non ci prendiamo in giro! Non giochi perché fai perdere! Basta! Ma! Va bene, va bene! Fai perdere, ragazzi! Fa perdere le partite! È scarso! Allenati, piuttosto! Parola di macumba contro il stregato, allora! No, non ci provare! Contro il tuo team! Ma che schifo! Ma cosa vuoi che perdo la mia stritta? Ti vuoi far perdere! No, no, io voglio che tu venga con me di vincere! Pur di sabotare il stregato, vuole far perdere te! Va un po' male perché ci sono solo le casse al centro! Ma non ti preoccupare! L'importante è che siamo tattici! Vai, prendila veloce, veloce, veloce! Prendi la gemma! Ah! No! 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 Perché hai voluto giocare? Sono imbecilli orribili! Scusa! Mio Dio, stregato! Pro! Pensa a non perdere questa streak per colpa di questo insignificante schifo! Ho avuto adesso degli eviti! Sì, è vero! Sei più forte tu, Lai! Non ricorda! Oddio, quella che skill! Vai, stregato! Vai, stregato! Bravo! Prendi le gemme! E' qua sopra! E' qua sopra! Eh, lo vedo! Cantagli, cantagli! Sono due, sei! Ma state! Sono due, ma non! Comunque, devo dire che... Ma te è fatto di nuovo! Vabbè, vabbè, però questa volta ha fatto il suo. Dai, questa volta ha fatto il suo. L'importante è che rimani tu in vita! Sre, dopo ne parliamo di questa cosa che hai fatto, eh! Sì, sì, sono pronto! Dopo ne parliamo, ne discutiamo! Vedi che alla fine dovevi prenderti, Alex, grava meglio! No, no, forse non hai capito... No, stregato! Oh, no, quello è facile! No, vai via, stregato! No, stai a punto! No, stai a punto! Sre, ci sturano! No, 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 non ti preoccupare, tu puoi farlo! Fratello, fratello, vai! No! No! Porca, per un per... Stress, no, la streak è ancora in corso, eh, mi sa. Però mi dispiace tanto! Ma sai cos'è la verità? Tu non hai capito. Io ho sentito una vocetta lurida e vergognosa che prima diceva che ti avrebbe guffato durante la partita. L'ho fatto. È vero! Hai fame! Tu, dimi, vieni immediatamente rimosso dalla rimpiesta di amicizia. No, ti prego! Non lascia quell'idioto del Tommy Collati, prego, no! Rimosso, rimosso! Invita a me, fratello! No, non voglio fare un'altra con Fè, invece. No, Fè, non lo faccio! Silenzio! È l'ultima! È l'ultima. Bella di fare a mille trofei! È vero, ottima partita, Fè, la dobbiamo vincere per questo. Mamma mia, sono carico, Lion! Alex, puoi anche andartene per sempre, per favore? No, Lion, te prego! Non voglio rimanere! La parola! Grazie, grazie! Guarda che pace! Lo avete rimosso, l'avete fatto molto bene. È stato proprio piacevole! Cioè, un'aura di sfiga lo attornia, ragazzi, è terribile. Vieni. Ma veramente? Che schifoso! Ma tu hai mai visto uno iettatore come quello? Io mai, mai, in tutta la mia vita! Eppure, tu sei sfigato, quindi qualcuno l'avrà incontrato. Ma non al pari di Alex, così forte! No, come lui mai! Ma attento, qui, vieni. Ti seguo! E non far perdere, e non far perdere! No, non perdiamo. Ma sei devastante! Mamma mia! Anche Fede, comunque, con questo pinguino, devo dire, non male, eh. Ti do una mano, attenzione, Fede! Attento che ti sono cerchiato! Ok, ok, ok! Attento, fratello! Va bene, va bene, va bene, seguimi, eh. Stammi limitrofo. Ti seguo, ti seguo! Stammi limitrofo, vieni. Ultimo tempo! Questo dobbiamo ammazzare il bottigliaro, eh. Ce n'è uno, attenzione! Questo è il campione preferito di Anna che gli dà le bottiglie. È il tuo momento, Lion! Dai, Anna, lo sai che non è vero, eh. Che tu te le porti da casa. Eh, troppe cose, mi devo ricordare! Eh? Che mega si compra le cose, tipo andare all'aeroporto e comprare da bere, ragazzi, ve lo fanno pagare 10 euro, cioè, non conviene. Giusto, Anna? Eh no! È una troffata totale! Io non lo so! Non puoi portare da casa, però! Anna, vai! Vai, Lion! Fede, non sei Anna, però, tu. Non mescolarti. Lo so, hai ragione scusa, sono un idiota! E tu hai l'ultima kill per i mille coppe! Lo uccido io? Vai, Lion, è tuo! Aspetta che è furbo. E questo tira le bottiglie, è un gran bast... No, no, Fede, Fede, mi sugga. Mi sta counterando con le sue bottiglie pazze, questo qua. E manda... No, si è risultato. Eh, scogliato, mocio muscolo! Vieni a questo, Lion, è tuo! Mocio muscolo! Oh! Vai, bravissimo! Oh, ma questi! Bravissimi! Questi erano dei fabbri e avevano le mani pesanti, comunque, eh. Non male. Erano forti, ma non come te, Lion! Ragazzi, attenzione! Siamo, a parte ancora la nostra serie di vittorie, ma soprattutto siamo finalmente al discreto traguardo di mille e passa trofei! No! Allora, dedico questo momento a tutti, tranne che a quel vergognoso portasfiga di Alex, che, infatti, è stato... Lo vogliamo riportare per vedere cosa ha da dire, eh? Riporto subito! No, non ti prego, scusami! Non volevo portarti il fortulato, non l'ho sfigato! È stato rimosso? Ah, che bello! Va bene. Per oggi, ragazzi, ci fermiamo. Non scrivetene con me, Alex, povero Alex, perché portasfiga! Avete sentito? Ha detto, auguro a stregato di perdere! Cioè, è una cosa... È cattivo, eh! È cattivo! Cioè, poverino uno così! No, poverino è chi non c'è il pane, no, Alex, che è un infame! Per oggi, Lion out! No!